E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti per quello che ormai è un appuntamento di rito ovvero ogni qualvolta c'è il FOMC c'è la Fed che decide sul taglio dei tassi o sul rialzo o sul niente dei tassi come probabilmente in questa come probabilmente stavolta sarà dovrebbe essere un FOMC abbastanza scontato ma poi c'è il mitico Paolozzo che entra in gioco e fa la sua conferenza stampa e noi cosa facciamo la seguiamo in diretta la commentiamo in diretta memiamo su Powell gli mandiamo un paio di macumbe che così Bitcoin ci pompa ovviamente non a lui è al dollaro e alla Fed non sia mai perché Jerome è uno di noi ovviamente quindi sempre per essere fedeli ragazzi al come si dice al rituale cioè ormai è un rituale a scaramanzia noi dobbiamo mettere il grafico a un minuto chiaramente non fatelo a casa perché il grafico a un minuto è pura che è successo qua tra l'altro però niente per il meme ci mettiamo il graficozzo a un minuto e tra un minuto esatto tra l'altro andiamo a vedere cosa dirà Powell poi facendo le nostre considerazioni il che vuol dire che ho un minuto esatto di tempo per dirvi che cosa di prendere una rincorsa velocissima ragazzi velocissima e lasciare un bel like voi che ci sarete voi posteri su YouTube che vi sarete persi la diretta vabbè però il commento è fondamentale iscrivetevi mi raccomando al canale come sempre se volete essere al 100% sul pezzo abbiamo una serie di contenuti ragazzi bollenti in arrivo domani arriva il nostro nuovo corso gratuito ne parliamo tra poco sarà qui sul canale quindi ragazzi iscrivetevi iscrivetevi è fondamentale per assorbire più valore possibile e ovviamente per sostenermi per voi a costo zero ma per me ragazzi credetemi conta veramente tanto lo so che suona un po' come un'elemosina ma è davvero importante ecco questa tipologia di fib quindi grazie di cuore a chi deciderà di farlo e adesso Jerry stupiscici stupiscici con un nulla di fatto tanto vedo che anche il grafico a un minuto non è volatile nemmeno quello quindi io credo che il mercato sia andato direttamente a letto non lo so cosa dite bambini a letto con il grafico a un minuto esatto sta laggando ma dite che ah che è che è che è oh calma calma che qua su un minuto tutto sembra movimenti folli scommetto che c'è stato nessun rialzo dai ditemelo voi ditemelo voi ormai ditemi scrivete in chat quello che succede io leggo voi direttamente facciamo così facciamo questo gioco io non sto neanche ad aprire Twitter non sto neanche ad aprire nulla io leggo voi e voi mi dite quello che accade euro dollaro ha sparato long rottura dello schermo e si meno 75 senz'altro senz'altro lo so tanto che la buona vecchia Fed non ha combinato una mazza ma per il rigore di logica noi andiamo a vedere le comunicazioni ufficiali ufficialissime vediamo 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 tra l'altro adesso sì che dobbiamo parlare di una cosa proprio mi è venuto in mente guardando Star Atlas ma il 2024 potrebbe essere cos'è SEC move on the treasury today is more important than crypto cosa cosa ha fatto la SEC che mossa ha fatto oggi adesso dobbiamo io ho visto la notizia della nuova regola contabile adesso poi la andiamo a vedere non so se si riferisce a questa cosa ma era un'ottima notizia ne parliamo tra pochissimo e dunque dai dai fatemi un po' vedere 550 ok la Fed non ha aumentato i tassi top Fed leaves rates unchanged direi che abbiamo sufficientemente fonti assorbite per poter dire decretare questa cosa molto bene molto bene come da aspettative d'altronde non abbiamo neanche avuto tempo di dirlo ma era così adesso torno da voi perché ce la facciamo così oggi in botte risposta ma giusto per dare uno sguardo al futuro ragazzi maggio 2020 è pazzesco questo maggio 2024 primo taglio dei tassi e halving combo micidiale c'è veramente una una primavera che secondo me ci sarà da andare in giro in mezze maniche già presto per il caldo che farà no sento già il calore della fome molto interessante quindi appunto le prospettive sono tassi invariati dicembre gennaio in realtà anche marzo c'è un 44 per cento che al momento stima un possibile taglio dei tassi e la maggioranza passa invece al al funk di maggio ragazzi ci aspetta veramente un momento storico bollente caldo caldissimo cioè ci sono c'è una tempesta perfetta l'avevamo definito una serie di cose molto interessanti taglio dei tassi possibili stimoli finanziari per evitare la recessione se arriverà insomma quello lo vedremo sarà un po la narrativa dell'anno prossimo gli etf spot l'halving ragazzi veramente una cosa insensata e quindi bisogna bisogna stare sul pezzo un periodo in cui bisogna stare assolutamente sul pezzissimo detto questo allora chiudiamo per il momento il capitolo funk ci vediamo con jerry alle 6 alle 8 e mezza buonanotte e che inizierà il suo la sua conferenza stampa dove dirà che l'america è forte il mercato è forte il dollaro è forte e ragionerà in base ai dati eccetera eccetera dati che tra l'altro aggiorniamoci anche su questo dati dell'inflazione che sono andati come d'aspettative sono usciti ieri e vedete c'è una discesa al 3 1 per cento ricordiamo che il target della fed dovrebbe essere il 2 vedremo se verrà riaggiustato oppure no però nel senso non ci siamo tanto lontani siamo arrivati al 3 che è comunque un risultato non da poco ed è uno dei motivi il fatto che l'inflazione sembra essere tornata sotto controllo è uno dei motivi che giustificano il prezzare di un profilo di possibilità di variazione dei tassi come quello che abbiamo visto prima quindi con già sul tavolo dei tagli cioè pensate che entro fine 2024 dovremmo secondo appunto le stime del mercato tagliare fino al 4 e insomma vedremo poi strada facendo come reagirà ovviamente l'inflazione e gli altri parametri macroeconomici noi ovviamente rimarremo sempre sul pezzissimo con tutto ciò che accade adesso torniamo un attimo a commentare la price action prima che mi dimentichi aspettate che volevo farvi vedere dunque non so come cercarlo dunque vi ricordo che l'aveva commentato Michael Saylor tanto per cambiare vabbè dai andiamo non mi piace prendere come fonte Michael Saylor perché è leggermente di parte però se no ci metto mezz'ora stavolta a ricordarmi da dove c'erano tra l'altro un sacco di account parodia che mi fanno piegare in quattro eccolo qua questa è una notizia molto forte che oggi ha innescato un po il rialzo infatti non so se avete visto andiamo a un grafico un attimino più più sensato c'è stato un rialzo un po più marcato ecco nelle ultime ore e la notizia che ha un attimino spinto diciamo questo questo movimento non che sia stato un movimento di chissà che genere però comunque una notizia estremamente positiva dal mio punto di vista ovvero è stata adottata una regola contabile questo è un tema di pura contabilità quindi apparentemente uno dice non chi se ne frega no però no perché stavolta c'è un nuovo standard è stato aggiornato lo standard del FASB e che fondamentalmente cosa dice per farla semplice dice che attualmente dall'anno fiscale a partire da fine 2024 dopo quindi negli anni a seguire si potrà contabilizzare le detenzioni in bitcoin al loro fair value quindi fondamentalmente ci sono anche le agevolazioni fiscali no nel caso ovviamente di minusvalenze insomma sono tutte delle regole fiscali dove fondamentalmente si apre un po la strada a una maggior semplicità lato corporation lato aziendale per poter detenere dichiarare e quindi detenere bitcoin sul loro balance sheet questa è stata vista come una notizia molto positiva perché di fatto è un ulteriore incentivo cioè non è un incentivo in realtà però è un ostacolo in meno è un po come quando diciamo noi nella situazione italiana no che manca quando manca la chiarezza fiscale immaginatevi che è una cosa che c'era fino a prima della legge di bilancio adesso si sa chiaramente no come bisogna dichiarare e gestire le proprie cripto immaginatevi per un'azienda no che ha comunque più più due diligence più obblighi fiscali nel momento in cui non ci sono delle regole chiare ci sono delle regole svantaggiose magari non ti permette di compensare le minusvalenze oppure non cioè non sei incentivato ecco a detenere magari una tassazione esagerata o cose di questo tipo chiaramente è un ostacolo no dici allora piuttosto non lo faccio se devo correre dei rischi o comunque avere dei malus no dovuti dal voler fare questa cosa allora preferisco non farla e ecco rimuovere questo ostacolo chiaramente è un passo in avanti anche all'adozione lato corporate poi chiaramente Michael Saylor lui si immagina bitcoin come reserva asset mondiale di qualsiasi corporate e qualsiasi entità non ci siamo ancora ovviamente adesso la fomo di Michael Saylor è oltre ogni immaginazione e limite umano ma noi con i piedi per terra sicuramente possiamo lo stesso dire che è una notizia positiva perché dove c'è chiarezza sicuramente c'è possibilità di maggior adozione e l'adozione lato corporate lato istituzionale è fondamentale per diciamo un arrivare ecco a distribuire il più possibile bitcoin come asset e quindi questo era uno dei temi a mio parere molto importanti di oggi una bellissima notizia a mio personale parere ditemi anche voi cosa ne pensate e io penso vi dirò di più che uno dei temi del 2024 vedremo adesso se l'etf verrà ufficializzato oppure no ma in caso positivo uno dei temi del 2024 potrebbe proprio essere la detenzione di bitcoin da parte delle aziende tramite anche lo strumento etf perché chiaramente detenere bitcoin spot mette di fronte a dei rischi e delle difficoltà ulteriori l'etf ti porta via questi rischi ovviamente che non stanno più a te l'onere della custodia l'onere della cioè dell'avere un prodotto magari da dichiarare fiscalmente in modo diverso tu hai un etf sei già abituato sai già come funziona super easy e via no quindi io credo che questo potrebbe incentivare parecchio ecco l'adozione da un punto di vista aziendale di bitcoin come asset come allocazione di portafoglio per diversificare eventualmente da ciò che già si detiene e avevo anche un altro tema di cui parlare con voi ma ne parliamo tra poco perché io prima voglio arrivare da voi vi voglio belli carichi e belli gasati macchina del tempo chi è che ha una macchina ragazzi se avete una macchina del tempo fatevi un favore tornate indietro di qualche anno anzi fatemi un favore tornate indietro di una decina di anni chiamatemi vi do il mio numero e ditemi lui compra sti dannati bitcoin convincetevi convincetemi anzi non importa come dove quando ma convincetemi e ciao luca alle canarie ma sempre sul pezzo grandissimo grandissimo goditele goditele anche per me che qua fuori c'è della nebbia che le canarie te le invidio parecchio te le invidio parecchio che compra mina col pc hai ragione anche tu hai ragione anche tu ma io mi ricordo che c'erano delle cose negli anni 2010 io ho un ricordo di i forum che ti regalavano bitcoin per iscriverti tu iscriviti e ti do due bitcoin no robe tanto valevano meno di un centesimo al tempo pazzesco pazzesco sei di massa per caso no piacenza ragazzi la mitica piacenza immersa nella nebbia con 39 di febbre ma ci sono no mi dispiace guarisci presto mi raccomando buona guarigione e spero che bitcoin ti allieterà questi giorni di influenza dai magari una bella candelozza verde ci fa passare tutto quando bitcoin costava 200 dollari è già lì era erano bei tempi erano bei tempi tra l'altro io vi voglio chiedere una cosa vi voglio visto che stiamo parlando di tornare indietro nel tempo domandozza per voi e per i posteri che verranno su youtube scrivetemi nei commenti la risposta domanda voi da quando siete nel mondo cripto sono curioso adesso di vedere quanti sono arrivati presto tardi che ogni tanto mi capita qualcuno che fa io ho scoperto bitcoin nel 2012 e dico cosa diato te diato te conosco chi ne prese una 800 venduta 18k per la macchina o ragazzo mio un profitto un profitto e saluti da sestriere quasi scia sui bitcoin ragazzi che mi è venuta la fomo della montagna adesso ci devo tornare troppo ho fatto la presale di bitcoin la ico di bellissimo coupon per ski pass campiglio e dovrebbero metterlo su b3 fill lo ski pass pagabile in bitcoin dovremmo dirglielo 2020 23 17 19 17 ma era una pippa eccomi ci sono anch'io 17 ma pippa un torneo organizzato dalla blizzard anni fa dietro secondo se me lo ricordo di cos'era starcraft forse comprato i primi bitcoin a 90 dollari e li ho presi con un amico a quel tempo dicevamo a tutti gli amici di prenderli e tutti ci dicevano di smettere di farci fregare torna dagli amici e diglielo chi è che si è fatto fregare è chi però scommetto che poi li avete venduti anche perché io sinceramente cioè io lo dico con sincerità se avessi comprato bitcoin nel 2012 a bo metti un dollaro e te lo ritrovi a 100 200 cioè io io l'avrei venduto 100 per cento sicuro sicuro per andare a sbronzarmi con gli amici probabilmente dai ragazzi offro io stasera tavolo e via sicuro sicuro me la vedo che sarebbe andata così e però non è successo quindi niente non ci non ci poniamo nemmeno il dubbio non ci poniamo nemmeno il dubbio 2021 2020 tardi anche te luca pensavo da molto prima eh sì 2018 no primavera 2017 ottobre ho aperto il canale ho il mio primo acquisto su coinbase tra l'altro me lo ricordo come fosse ieri di ethereum e bitcoin che ci avevo messo 300 euro 400 euro una roba del genere e avevo preso qualche ether perché costava 80 85 dollari ether tipo e una briciolina di bitcoin bei tempi bitcoin era 1400 do 1500 giù di lì insomma bei tempi ragazzi poterci tornare poterci tornare sapendo il futuro però mi sa che così è troppo facile no allora aspettate che necessito di acqua mamma mia ethereum 80 euro è amico mio ce li avessi ancora poi li ho da tutti diventati shitcoin è stato veramente un ciclo incredibile un ciclo incredibile 80 dollari e da fighetti i primi li ho presi a 60k fantastico e beh ragazzi ci siamo passati tutti e dai io in compenso li ho presi 80 dollari ma poi li ho gamblati tutti per le shitcoin del tempo che chiaramente sono andate non dico a zero ma quasi e quindi non siamo tanto distanti sono sono lezioni ho imparato la lezione il ciclo dopo è andata meglio ho imparato a gestire il rischio e a non fare un lean intanto intanto guardate qua che meraviglia ma sta laggando il grafico no intanto dicevo qua stiamo creando un costruttino di bottom io sto guardando sulle quattro ore il grafico perché sul giornaliero non ci sono ancora abbastanza dati no di fatto per per definire una struttura cioè abbiamo l'ai sicuramente abbiamo il low attuale però adesso dobbiamo capire un po il da farsi cioè che intenzioni a bitcoin perché sul daily l'unica cosa che possiamo dire che c'è in corso un impulso ribassista di breve chiaramente in controtendenza col trend che è rialzista non non fraintendiamo quindi ritracciamento sul breve da un trend fortemente rialzista e che verrebbe annullato quindi fino a prova contraria la prova contraria sarebbe l'assorbimento dell'origine del dell'impulso che però possiamo tranquillamente approssimare col top col col high locale perché si trova 100 dollari sopra quindi di fatto 44.200 è il nostro livello di invalidazione dello storno invalidazione di tipo 1 diciamo ovvero diretta perché altrimenti l'altra tipologia di invalidazione sarebbe andare a costruire una struttura che non sia massimi e minimi decrescenti no perché ripeto al momento abbiamo solo l'impulso ribassista quindi innesco del papabile storno ma se poi adesso noi andiamo a fare che ne so io una roba del genere poi così poi così insomma vedete che non è più uno storno ma diventa una lateralità tuttavia non ci sono ancora sufficienti dati ripeto per per dirlo proprio perché l'unico dato è l'impulso ribassista dobbiamo adesso vedere dove si va a posizionare l'ai quindi vediamo in particolare ecco possiamo dire questo possiamo evidenziare quest'area oppa la 42.800 fino a 43.200 come zona se vogliamo di resistenza perché di fatto vedete qui c'era stato un piccolo range fatemi cancellare questa rigaccia quassù c'era stato un piccolo range vedete in quest'area con un po di liquidità qui sotto quindi se vogliamo possiamo identificare questa come una zona di resistenza zona di offerta ecco quindi vediamo se ci arriviamo se arriviamo qui ci sarà la seconda ondata di offerta che ci riporta giù vediamo dove sarà poi il low avremo il lower high vediamo dove sarà il low potrebbe esserci un triangolo appunto con equal low e lower high altrimenti ci potrebbe essere la continuazione dello storno quindi propagazione conferma dello storno o altrimenti ci potrebbe anche essere nessuno lo vieta una cosa di questo tipo quindi lower high higher low triangolino e questo tendenzialmente potrebbe diventare un costrutto di accumulazione perché di solito appunto i triangoli fatti in questo modo sono costrutti di continuazione di un trend quindi le gap lateralità accumulazione le gap vedremo è ancora presto per dirlo cosa possiamo fare guardare l'intraday l'intraday ovviamente perde un attimino di affidabilità perché più si scende con i time frame più il rumore rischia di dominare il segnale ma sull'intraday sul quattro ore non mi spingerei più giù comunque del quattro ore per non andare proprio nel nel microscopico che è dominato dal rumore mentre aspettiamo jerry che arriva tra dieci minuti l'intraday cosa ci dice che c'è vedete una potenziale w qua il cui top è qua quindi 42.350 vedete che c'è questo questa candelina verde no questo clasterino qua che di fatto è il nostro top della zona locale che ha un range al momento abbiamo leg down quindi break down da questo low siamo arrivati qua sotto abbiamo fatto un leggermente lower high i quali e poi vedete che c'è la w in questo modo fino tra l'altro al break al break out scusate della w quello che c'era era un lower ice e i quali che adesso sono stati appunto invalidati abbiamo più una cosa laterale di questo tipo cambia poco perché di fatto il livello di prezzo di riferimento è questo per il costrutto attualmente formato mentre sotto abbiamo questa zona teniamo pure anche le shadow e quindi la rottura da una delle due parti decreterà la propagazione quindi se rompiamo a rialzo il target più probabile poi diventa questa zona qui che abbiamo identificato prima sul daily e se riusciamo a bucare anche questa zona di offerta si rischia cioè si rischia si spera dovrei dire non lo so si rischia c'è la possibilità di ritornare a assorbire l'intero impulso e quindi andare in accumulazione proseguire a rialzo e vedete che tra l'altro anche qua abbiamo un bel po di volumi qua sotto no quindi diventa un'area di importanza non indifferente quasi uguale vedete alla zona di top qua su e al contrario se andiamo a rompere a ribasso cosa succede rompere a ribasso cosa vuol dire vuol dire prendere la liquidità svipare qua sotto e chiudere almeno qua sotto ok quindi chiusura da qua in giù più suite da qua in giù altrimenti non è un'effettiva rottura c'è una simile rottura che potrebbe risolversi con un falso movimento se dovesse accadere che cosa cosa abbiamo la propagazione appunto di dell'impulso ribassista a un a una continuazione dello storno i target quali sono allora i target si vedono bene secondo me sul settimanale che sta iniziando apro una parentesi ad assumere dei connotati non brutti guardate tra altro come invito a guardare sta cosa come allargando il time frame il grafico assume veramente connotati diversi cioè non bisogna impazzire dietro ai grafici di breve quando si può avere un grafico così che è molto più rilassante no anche lato per attività cioè capite che questa non è una candela da panico io vedevo già gente impanicata in questi giorni ma cosa succede anche nella live che abbiamo fatto lunedì abbiamo cercato infatti di riflettere no di mettere i piedi per terra e di ragazzi questi sono gli scenari possibili ma per invalidare una una struttura del genere cioè ce ne vuole di assorbimento non vuol dire che non accada è perché sarebbe ottuso è dare per certo che si sale basta perché alla fine il mercato non funziona per certezze no funziona per scenari e per probabilità quindi è importante seguirli per bene e parlando appunto di di scenari immediati quindi di di concreto ciò che abbiamo sotto i nostri piedi è la vabbè in caso di prosecuzione del 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 ritracciamento i 39.900 facciamo pure 40.000 che è l'apertura della candela settimanale quindi se ecco se chiudessimo il settimanale qua sotto oltre a propagare sul daily il ritracciamento avremmo un engulfing bearish sul settimanale quindi sarebbe uno scenario di debolezza e di probabile di più probabile quindi inizio di uno storno più propagato perché abbiamo un primo segnale anche sul weekly che poi più di solito no un primo segnale così si risolve in un lower high a seguire e poi c'è o un consolidamento che poi magari fa ripartire oppure ripeto uno storno prolungato comunque di solito mette davanti a qualche mese ecco di lateralità o incertezza lo vedremo comunque se ciò accadrà ne parleremo lunedì prossimo e a scendere poi abbiamo i nostri 38.500 che è vedete c'è tutta questa zona che è la zona di congestione data dai vecchi livelli chiave che di fatto è un'altra zona che se rotta ostenterebbe debolezza notevole no quindi andrebbe ad allungare ancora di più le tempistiche di correzione e di eventuale recupero in seguito poi se dovessimo perdere anche quella ci si augura non in un singolo movimento non in una singola leg down perché altrimenti sarebbe abbastanza tragico assorbire così tanto senza neanche un rimbalzo ma poi abbiamo ecco quello che è il livello più importante di tutti che deve dovrebbe tenere per comunque mantenere una parvenza ecco di di forza da parte della domanda altrimenti sarebbe completamente soppressa la zona 30.600 31.700 che come vedete è il livello più importante anche nelle ultime settimane è la prima il primo livello di supporto che abbiamo nel movimento attuale senza andare a pescare dalla storia ecco quindi questo è un po' l'outlook delle prossime settimane chiaramente se chiudesse se dovessimo chiudere il settimanale addirittura qua sopra non avremmo perso nemmeno la resistenza minore cioè nemmeno il supporto minore adesso è supporto perché ci abbiamo chiuso sopra la settimana scorsa quindi le possibilità adesso siamo all'inizio questo è un piccolo movimento correttivo siamo dovuti addirittura andarlo a esaminare sulle quattro ore e ho voluto fare questa proiezione anche su sul lungo termine no macroscopica proprio per avere chiaro il possibile percorso che bitcoin potrebbe andare a compiere nelle prossime settimane però c'è veramente ancora tutto da scrivere quindi per il momento chiara chiari questi punti cardine ecco seguiamo quello che combinerà sul breve che poi appunto nel momento in cui diventa importante si va a propagare anche sui time frame maggiori per il momento abbiamo un banalissimo inizio di storno sul breve con una prima con un primo impulso ribassista sul daily per l'appunto sul settimanale c'è una candelina così buttata lì che potrebbe ancora risolversi in tutti i modi dal migliore al peggiore ma non è assolutamente nulla di cui urlare alla tragedia ok quindi lasciamo che il mercato faccia il suo bellissimo corso e qua nel frattempo vi vedo ancora belli persi per nei ricordi e pump in diretta speriamo ragazzi un bel pump in diretta chiamarlo dip ci vuole coraggio ma in realtà dip è il termine giusto perché è l'inciampino no alla fine c'è stato un inciampio un inciampino un inciampo del 7 per cento qualche un paio di giorni fa ed è un dip però ecco un'altra cosa che ci tengo a sottolineare che che è sbagliata e di e gridare sempre by the dip perché non è una strategia vincente by the dip a caso perché potrebbe essere la prima di una serie potrebbe non esserla insomma by the dip significa un po improvvisare quindi può avere senso se ad esempio viene integrato in un pack fatto in un certo modo ovvero un pack dove uno si mette una regola che anziché acquistare il giorno del pack se in un giorno c'è un calo maggiore del tot per cento allora anticipa oppure posticipa ma lì deve essere una regola che è scritta nero su bianco ed è inviolabile non by the dip così cioè lascia il tempo che trova by the trip ragazzi andate short che cosa questo questi pessimi consigli finanziari i bo the dip of the esatto la dip della salsa altrimenti e via nella finanza tradizionale se in un giorno un investitore perde il 7 per cento non passa dei bei quarti d'ora assolutamente sì beh in questo frangente invece la strategia by the dip è una delle migliori visto l'arco temporale in cui ci troviamo ma il fatto è che non è una strategia capito perché cioè io sono io personalmente lo sapete che che sono un accumulatore di di bitcoin perché a parte del mio portafoglio quindi ovviamente anch'io se vogliamo faccio by the dip nel senso che quando ribilancio il portafoglio se bitcoin è sceso vado ad allocare a bitcoin no quindi vado ad acquistare bitcoin magari con la liquidità o con altri asset però di fatto ci vuole tutta una contestualizzazione perché cioè by the dip per te che cosa vuol dire cioè spiegami spiegami questa cosa no che è importante cioè tu quanto e quando fai by the dip cioè queste sono le due domande perché poi è corretto dire che appunto quando quando il prezzo scende tanto ovviamente ci sta fare l'allocazione però deve seguire dei binari a questo il discorso di che va fatto cioè però va contestualizzato ponendosi le domande quanto e quando cioè by the dip quando quando fa meno 5 meno 10 meno 20 e soprattutto quanto cioè qual è l'allocazione da dare e quello è perché altrimenti diventa un po una cosa improvvisata e perché by the dip but it keeps dipping no se lo fai quando durante un inizio di bear market by the dip by the dip by the dip e alla fine non lo so c'è una cosa un po un po così no ci deve essere un po di un po di regole ecco non per dire che ha sbagliato è ma per dire che va assolutamente contestualizzato e dunque 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 avevi visto che quando c'è stato il meno 6 per cento giornaliero il meno 3 era stato fatto in un minuto alle 3 di notte circa ma per fortuna dormivo mi sa per fortuna dormivo eccomi sempre in ritardo porco mondo ma tranquillo tra due minuti arriva zio gerry quindi alla grandissima alla grandissima e allora 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 io direi che possiamo parlare di un altro tema così tra 5 minuti andiamo a prendere l'inizio della conferenza stampa di gerry allora allora intanto ci tenevo a dirvi due cose allora prima di di andare a dire quello che potrebbe essere secondo me un trend non da poco del 2024 che potrebbe essere il gaming il blockchain gaming potrebbe ritornare in auge e tra poco andiamo anche a vedere come mai e prima però ecco domani non so se ve l'ho già detto non mi ricordo però domani esce il nostro nuovo corso gratuito che sarà sui derivati e io vi anticipo che sarà un corso abbastanza come dire ricco di contenuti perché parliamo di cosa sono i perpetuali futures come si usano leva liquidazione funding tutti i tecnicismi vari tutti pare il settlement dei future la componente contango backwardation tutte quelle robe lì e vi incentivo a farlo nel senso perché è utile conoscere quegli strumenti in tanti fanno trading sui perpetual sui futures senza manco avere idea di quello che stanno facendo pensa anche sia come comprare vendere magari con la leva poi ti ritrovi liquidato o ti ritrovi a pagare il funding che non sai cos'è o compri uno strumento che ha un prezzo diverso dallo spot insomma ci sono tutta una serie di cose da sapere e quindi ragazzi sono cinque episodi domani esce il primo ogni giovedì usciranno e poi domani ve lo scillo per bene tra l'altro vi dico anche una cosa molto simpatica è un sono riuscito a fare questa scroccata in collaborazione con by bit siamo riusciti a fare questa cosa che i primi cento che completeranno il corso e faranno l'esame finale sapete che ci sono i quiz sulla nostra piattaforma di learning no ci sono i nostri corsi e alla fine ci sono i quiz dove si risponde alle domande su ciò che si è imparato i primi cento che faranno il massimo dei punti avranno diritto a un bonus di 50 usdt su by bit senza condizioni senza depositi volumi insomma bonus vostro bam ci fate quel che volete aprite una posizione in leva 100 per ve lo bruciate oppure lo usate per fare trading quindi appunto c'è il quiz finale dopo il quinto episodio ovviamente quindi intanto mettetevi avanti domani col primo poi giovedì prossimo col secondo così poi siete i primi bam e vi popolate il bonus infine dopo domani invece riaprono le iscrizioni alla sessione di gennaio dei nostri workshop investimento e trading base fatti da massi e matte che sono delle lezioni 8 ore di lezione in presenza virtuale ovviamente su zoom queste sono le date e sarà acquistabile a partire da venerdì 15 e se lo si acquista nel weekend ci sarà un prezzo come quello del black friday quindi veramente al 30 per cento in meno rispetto al prezzo di listino e scontabile di un ulteriore 40 per cento con i cippini per otto ore di formazione più le registrazioni più materiale didattico e quindi state sul pezzo che anche questo ve lo scillerò nel frattempo si sono fatte le 8 e 31 quindi da una parte vi tiro fuori data one che ci ci aggiornerà alla grandissima su ciò che accade in fedlandia e dall'altro invece vi volevo mostrare un'altra cosa marzo un taglio già marzo qua sono già cambiati è già cambiato l'outlook mamma mia ragazzi come come siamo volatili anche noi e vi volevo dire che non mi ricordo dov'è il dove sono le fonti comunque il 2024 secondo me potrebbe essere l'anno in cui riemerge il blockchain gaming perché tantissimi giochi triple a escono nel 2024 mi viene in mente shrapnel su avalanche star atlas su solana che tra altro ho visto oggi mi pare domani o dopo domani esce tipo una pre alfa giocabile e poi cos'è che c'era il luvium che appena uscito ci sono tutta una serie appunto di giochi da cui stanno lavorando a cui stanno lavorando da anni che escono nel 2024 e come abbiamo commentato tra l'altro lì sono parole ovviamente di vanek non gliele voglio rubare come ha detto anche vanek nelle predizioni che abbiamo di cui abbiamo discusso ieri se il fatto che sono giochi belli finalmente no quindi non il giochino che ci metti lì il bot a farmare oppure lo fai solo per farmare token per l'appunto ma il gioco fa schifo ma sono giochi belli shrapnel è uno sparatutto star atlas comunque al suo universo e a un motore unreal c'è tutta una serie di cose molto fighe in quei giochi lì e potrebbe esserci una prima partnership magari con un grande distributore come epic games come un online store di quelli grossi e quindi potrebbe succedere che un gioco qualche gioco magari on chain web 3 diventi mainstream magari senza che neanche la gente sappia che a web 3 no e quello secondo me è un tema da non sottovalutare vi vado a riprendere aspettate anche quelle di vanek le predizioni di vanek perché a loro tra l'altro si spingevano e dicevano secondo noi immutable x potrebbe diventare la chain più interessante sotto questo punto di vista dov'è allora eccolo qua blockchain game vedete a breakout blockchain game will finally arrive e qua si parla vedete di imx che secondo loro diventerà una top 25 beh illuvium che pare sia già stato rilasciato guild of guardians altro che non conosco e quindi questo questo è però e poi immutable x ha tipo delle tecnologie di semplificazione della dell'esperienza utente quindi è facile utilizzarli a me viene in mente anche adesso e ve li vado a vedere tanto lasciam parlare powell e lo andiamo a a vedere tra pochissimo punto adesso vi facciamo il punto su star atlas perché mi ricordo che avevo visto qualcosa in questi giorni ci arriviamo è un po alla volta con con la calma e circospezione del caso la fed non prevede recessione nel 2000 grande fed bullish come non mai allora star atlas cos'è sta cosa gensler cosa ha detto trying to lower risk in the system abbiamo avuto un caso e quindi facciamo le cose secondo queste parole aspettate il meeting dove la sec ha fatto dei cambi treasury market i soliti le solite i soliti incontri della secco i fund manager ma apparentemente adesso devo devo verificare la veridicità di queste parole ma lui dice abbiamo avuto un caso in di in corte né in tribunale riguardo i bitcoin etf e quindi facciamo le cose come le nostre autorità e la corte interpreta che vadano fatte ma non sarebbe male sarebbe anche ora gary di fare le cose un po come si deve questo significherebbe visto che comunque la corte ha sempre dato torto alla secco insomma non sarebbe affatto male non sarebbe affatto male e allora star atlas dicevamo ecco gold e nera me l'ero salvato l'ho bookmarkato e c'è la pre alfa 3d 4 a domani 14 dicembre e insomma star atlas è uno dei dei più ai pati perché comunque insomma notevole lato lato grafica lato user experience e quant'altro magari faremo un update in o mi ricordo che avevo invitato i ragazzi degli sviluppatori figuratevi di star atlas un bel po di tempo fa magari gli diamo un colpo di telefono e un colpo di telefono che che gergo anni 2000 e li facciamo tornare comunque questo poi c'era shrapnel mi pare che era su avalanche sulla subnet di avalanche e avalanche tra l'altro è un altro tema perché le sue subnet sono molto interessanti per il block chain gaming adesso non so se ci sono notizie però mi ricordo che è uno sparatutto shrapnel che dovrebbe essere bello da giocare per l'appunto e l'uscita era per se ne parlava già da mo e ed era usci e l'uscita era prevista nel 2024 e quindi ripeto 2024 potrebbe essere un anno intrigante per il block chain gaming nel mentre dove l'abbiamo lasciato sto bitcoin che cosa ci qualcosa detto ha detto qualcosa powell facciamo così ditemi voi cosa sta accadendo cosa sta dicendo jerry nasdaq oggi a 1 5 per cento dei massimi pazzesco gods and chain the top game sui mutable x e gods and c'è in tanta roba anche qua è quello di carte vero probabili tripla grandi grazie per queste dritte ci sono pure big time e fusionist big time e fusionist me li segno anche questi me li segno anche questi e grazie grazie per le dritte che ci aggiorniamo a dice jerry ha detto chi ha chi ha la diarrea ma jerry o gary prepare to tie them policy for the rifa proprietà la figurati se se non diceva che magari ricomincia a tagliare sia aumentare i tassi crediamo che la nostra policy rate è probabilmente vicina al picco per questo ciclo abbiamo avuto sorpresi in passato benissimo ah we believe our policy rate is at or near its peak quindi confermina da parte di jerry grande jerry anticipiamo che portare l'inflazione 2 per cento richiederà tempo quindi lui ha sempre il target al 2 l'inflazione si è un attimino smorzata ma è ancora troppo alta l'attività nel settore immobiliare si è appiattita e betri credo costi tassi chi è che si coppa dei mutui con il 5 per cento è chiaro che non è che è proprio incentivante full effects of tightening likely not yet felt ok proceeding carefully we are proceeding carefully ok inflation is too high paid for that forward uncertain inflazione al 2 per cento sì ma di anche qualcosa che non sappiamo jerry che ci piace di più le nostre azioni si sono mosse siamo restrittive solite cose insomma è la cosa è la prima volta se non sbaglio che esce dalla bocca di powell escono dalla bocca di powell parole del tipo crediamo che siamo vicini al picco o al p is at or near its peak quindi siamo al picco vicini adesso cioè perché finché lo prezzo al mercato sai mercato a volte va alla deriva ma se esce dalla bocca di powell che di solito è tutto bello cauto sono parole forti vediamo rifresciamo nel dubbio vediamo come è cambiato l'outlook nel frattempo qua abbiamo un attacco in diretta abbiamo superato abbiamo rotto il costrutto di bottom sulle quattro ore stiamo attaccando sul daily la zona di offerta vediamo vediamo la chiusura daily di oggi sarà abbastanza eloquente 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 poi allora aspettate volevo vedere qua probabilities acqua ghiacciata in arrivo attenzione è vero mannaggia marzo è questo che probabilmente sta impattando sul mercato siamo vicini siamo al picco avvicini al picco in teoria vuole può voler dire che fa ancora un surprise rise però mercato lo dà per improbabile marzo 57 per cento di probabilità del primo taglio mamma mia andiamo verso l'alving già tagliati dite non lo so vedremo vedremo interessante e ragazzi un giorno facciamo uno scherzo al look usciamo tutti della diretta contemporaneamente gli giuro che morirei da ridere perché parlo da solo sai che bello tanto vabbè poi c'è la differita che ce ne frega che c'è neon segnatelo liu come approfondimento stavolta davvero il dollar è forte e va tutto bene sony nel q1 costruirà la sua block chain quello è da vedere però se non sbaglio da vedere è un'altra chain che potrebbe beneficiare del tema del gaming è solana sicuramente solana un'altra chain che abbastanza cioè pronta è una delle poche che è pronta poi appunto c'è il mutable x che è fatto apposta praticamente è un layer 2 fatto apposta solana però è pronto e dunque 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 andiamo di x y oggi meno 0 8 quindi non è vero che il dollaro è forte ragazzi non si dicono le bugie non si dicono le bugie se no succede come pinocchio allunga il naso tra l'altro in lies of p ho fatto il finale proprio con bugie a cannone naso lunghissimo c'è l'arma poi che il suo naso pazzesco gioco folle allora andiamo un attimo a vedere anche ben nasda che informano mi sembra che il dollaro andiamo a vedere fatemi un po vedere sto dollaro ma secondo me oggi è infatti il dollaro oggi non è che proprio fortissimo anche perché se è già prezzato il tasse comincia a prezzare il taglio dei tassi il dollaro è in down trend tra l'altro interessante questa cosa massimi e minimi decrescenti sul settimanale come stiamo messi insomma dollaro insomma un attimino un attimino arrivato sembra è sembra un attimino arrivato cos'è questo un fake out del dollaro vediamo vediamo molto molto bene il nasda che è veramente qualcuno di voi ma del prima diceva che avvicino ai massimi e ricupero che ha fatto che ricupero impressionante mamma mia ragazzi mamma mia allora cosa possiamo andare a vedere di bello le al coin come siamo messi lato al coin in questo periodo c'è cardano che sta dando segni di vita non dico star 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 che è bullish perché come vedete c'è ancora un bel po di strada da fare però anche lui ha fatto un costrutto di bottom questo è settimanale che è l'unico time frame che ha senso guardare su queste al coin costruttino di bottom l'origine dell'ultimo dump sembra che la voglia riprendere vediamo come chiuderà la settimana e quindi potrebbe essere in procinto di un cambio di struttura non male interessante comunque vale la pena magari darci buttarci un occhietto e avax si è dimenticato che che bitcoin sta ritracciando perché è veramente in forma avax è veramente tanto in forma ha recuperato cioè ha una forza ha dato una forza notevole ha recuperato un bel po di impulsi ribassisti cioè quindi adesso è iper esteso chiaramente però è assolutamente una una struttura interessante lato grafico poi cos'altro abbiamo vediamo solana giusto perché anche lui era ecco in una zona di di congestione proprio intorno all'ulti all'origine dell'ultimo impulso solana un po di di narrative che lo spingono gli airdrop la scalabilità insomma è è ben posizionata ecco sotto vari punti di vista tra cui apparentemente anche quello grafico e peccato che non ha ritracciata oddio qualche qualche sweep l'è andato a fare sarebbe stato bello vederla ritornare più giù proprio per cercare l'entri problema che cercare gli entri la dominance di bitcoin è ancora in crescita e questo è il fatto la dominance di bitcoin vediamo le tre medie mobili che di solito uso per decidere se prendere o meno posizioni se ci dovesse essere ecco un'altra leg down potrebbe essere interessante cercare qualche settappino senza esagerare sulle altcoin contro bitcoin perché comunque insomma ci sono i primi segni di indebolimento su un certo livello della dominance è interessante interessante e per il resto beh ethereum è ancora lì abbastanza fermo ultimamente non è non è sotto i riflettori ethereum sono più sotto i riflettori altre coin e poi ecco vi avevo detto che era tornato il farming c'è seamless protocol che praticamente stanno farmando tutti come dei pazzi in questo periodo su base 73 milioni di market size che è arrivato tutto per farmare praticamente perché vedete che c'è ci sono degli api 20 30 per cento erogati nel studio nel loro token che quindi è un token chiaramente da farm and dump che è listato su coinbase tra l'altro quindi insomma non è anche interessante da quel punto di vista lì coinbase bam subito l'ha listato come come se piovesse e però appunto per il resto lato altcoin non so voi voi state seguendo qualcosa numbers protocol come investitori youtube e twitch non credo non credo bonk non senso proprio fatemi vedere bonk bonk che ovviamente se pompa solana pompa bonk e bonk bitcoin come coppia bonk btc no dunque allora facciamo bonk usdt tratto btc usdt vediamo è però 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 spinge spinge quindi bonk usdt si abbiamo visto che in uptrend anche contro bitcoin dov'è listato su buybit vediamo insomma insomma ne abbiamo pomo ne abbiamo quanto quanto ha fatto sto cane 6.000 per cento sono senza parole questa è la solana pomo è solana pomo at its finest mannaggia matic celestia to the moon è vero celesti ho visto che si è integrato anche con polygon e tanta roba tra l'altro quell'integrazione e come possibile date availability layer quindi sapete che celeste in sostanza è un layer zero no che ci si può plaggare al asseno con altre chain per utilizzarlo appunto per la date availability e polygon ecco la si è integrato come quindi le chain che voi che creano col modulo polygon potrebbero integrarsi anche a celesti a celeste un po' cerca di integrarsi il più possibile quello è un po il suo scopo comunque andiamo a vedere allora matic che è paul in realtà no è diventato pol mi pare dunque rimaniamo sul settimanale togliamo le medie mobili che non sono un grande fan delle medie mobili al di là della dominance oppa là e dunque in realtà polygon non è proprio tra quelle più in forma ecco che se abbiamo visto no perché alla fine un primo filtro che vale la pena fare è la struttura su time frame settimanale no chiedersi che struttura c'è su polygon che struttura c'è stiamo arrivando da un downtrend impulso ribassista e adesso siamo in fase laterale no siamo all'interno di un range di questo tipo quindi fino al breakout non c'è segnale di ripresa no c'è soltanto una una fase laterale che è vero è se cioè non vuol dire che non si può toccare dipende dall'operatività perché uno mi può dire io voglio cercare di anticipare no la possibile ripresa e quindi mi apro la posizione con invalidazione perdita del range low quindi vado cioè se vado a fare nuovi minimi vado a chiudere la posizione in perdita e se invece fa il breakout godo però chiaramente ha una posizione anticipatrice con i rischi annessi cioè nulla lo vieta nessuno ce lo vieta però bisogna essere consapevoli della tipologia di operazione e eventualmente dosare il sizing di conseguenza ma lì sta sta al trader che c'è ognuno di noi e allora allora aspetta render beam shrapnel avax injective emx top cos'è render tra l'altro me lo devo apro me lo sono messo di quali tra quelli da approfondire shrapnel è il gioco sì vanek che parla di helium e uniswap quanti cipini ci avranno me ce ne hanno messi vanek secondo me ha cipini dappertutto tra l'altro se ci fate caso zio vanek all'inizio no alla fine mi pare o all'inizio fatemi un po' vedere mi pare alla fine è bello nascosto nelle loro nei loro disclaimer dov'è 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 aspettate che ve lo volevo far vedere perché mi fa piegare no dai non dirmi che non lo trovo più vediamo forse all'inizio perché praticamente diceva che vanek potrebbe potrebbe avere delle posizioni nelle coin menzionate potrebbe eh dico guarda quella coin lì diventerà top 20 potrei avere una posizione ma adesso ve lo devo trovare perché ah no è qua boh scusate sono sono io ho gli occhiali per una ragione please note that vanek may have a position in the digital asset described below fantastico questi disclaimer mi fanno spezzare in due veramente mi fanno spezzare in due chissà se avevano posizioni chissà eh ma ma allora è sicuro mettere Ethereum in staking su Lido con il Ledger rischio c'è il rischio smart contract di Lido quello è il rischio in questione e dunque 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 bitcoin pompa ma open interest giù bravo andiamo a vedere l'open interest open interest refrescino nel frattempo ragazzi scillatina del giorno perché il nostro sponsor è da un po' che non lo menzioniamo e poi mi dispiace no sento il dispiacere rely il modo più sicuro per acquistare bitcoin no kyc e in modo non custodial cosa vuol dire no kyc non vuol dire che è anonimo ma vuol dire che non devi fare il kyc su rely quindi non devi dargli i tuoi documenti e i tuoi dati sensibili il che vuol dire ripeto non che sei anonimo perché si compra con bonifico e con pagamenti elettronici ma che eviti che il rischio che rely possa liccare i tuoi dati in giro perché viene bucato e cose del genere cioè meno li si dà in giro i propri documenti e dati personali e meglio è la cosa invece top è il non custodial ovvero rely ti manda direttamente i bitcoin nel tuo wallet e da lì non si muovono cioè non c'è il rischio di controparte se rely fallisce bitcoin sono nel tuo wallet e non te li tocca nessuno rely quando tu lo scarichi e lo usi per la prima volta ti crea un wallet non custodial sulla sua app che tra l'altro adesso abiliterà anche lightning quindi sarà anche un wallet lightning super easy da usare molto bello con l'Sdk di breed tra l'altro che è un servizio ottimo e a costo zero ovviamente poi appunto puoi acquistare con bonifico e ricevere i bitcoin lì se vuoi li puoi ricevere anche altrove sul tuo ledger sul tuo altro wallet quello che è e appunto ripeto è non custodial e no kyc è completamente legale perché è focalizzato sul mercato svizzero un prodotto svizzero dove le leggi impongono che sotto i mille franchi al giorno 950 euro al giorno di acquisto non serve il kyc quindi così è e le commissioni ecco sono partono dal 2 per cento possono arrivare fino all'uno per cento se si può si fa l'acquisto periodico si può anche impostare un acquisto periodico e se inserite un codice referral io vi lascio il mio che è gateway scritto tutto attaccato maiuscolo come decrypto gateway ma senza decrypto e vi toglie il 25 per cento di fiche quindi appunto dal dal due dall'uno e mezzo per cento diventano l'uno e io vi lascio c'è anche sempre il link in descrizione nei miei video se volete scaricare l'app ios e android è il nostro sponsor lo ringrazio ovviamente per sponsorizzare i nostri contenuti e che dire mi raccomando scaricate l'app e codice gateway per lo scontozzo e benissimo benissimo detto questo cosa possiamo andare a vedere le liquidazioni e l'open interest dicevamo allora open interest e avrà segato qualche short ve lo meritate no scherzo e però si sembra che ci sia però è cresciuto però secondo me meno del prezzo andiamolo a vedere questa estensioncina qua quant'è 4 e 6 direi di sia naso no beh è un rapporto 1 a 1 all'incirca quindi non è male non è male c'è parità c'è parità andiamo a vedere le liquidation eh le abbiamo prese è qua va che roba ragazzi l'indicatore più affidabile dell'ultimo periodo sono le liquidazioni vicine cioè pochi cavoli guardate qua c'era tutto questo strato caldo se l'è preso tutto qua di nuovo se l'è preso tutto adesso qua sotto se ci avviciniamo e ritorniamo in range e ritorniamo a giocare con i minimi locali in zona 41.000 ci mi ci gioco una mano che va a prendere quelle qua sotto sotto i 40.500 speriamo quindi di non tornare da quelle parti lì a far sui pare tutti vedete ci sono tutti gli attaccate alla shadow c'è veramente liquidità folli comunque è pazzesco come le liquidazioni ultimamente giochino un ruolo chiave andiamo a vedere jerry novità lato jerry voi cosa mi dite di bello vedi celestia adesso lo andiamo a vedere come vedi bnb andiamo a vedere anche lui andiamo a vedere anche lui allora 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 chi è gipelo che cosa dice ti vado a dare un occhio a neon potrebbe essere la gemma ragazzi non usate la parola gemma a me non piacciono le parole la parola gemma non mi piace ci darò un occhio comunque dai ci darò un occhio grande chioma 93 mitico mitico imperterrito imperterrito costoneon basta costoneon lo shortiamo mille per se lo nomini un'altra volta allora 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 powell we are pleased with progress on inflation bene siete contenti sono contento anch'io e anche i mercati we think we have done enough on rate io ne razzi parole forti però non ero pronto per questo non pensiamo agli eventi politici quando decidiamo i tassi bella per voi many people mentioned the rate forecast allora allora attenzione c'era una generale un'aspettativa generale che i tagli saranno wow da d'ora in poi il tema sarà sui tagli little basis for thinking quindi la recessione improbabile però è sempre possibile c'è sempre una probabilità già quindi non la togliamo la recessione ancora sul tavolo attenzione non è non è esclusa e recessione uguale stimoli quindi da l'imposso ci sarà vedremo ne abbiamo parlato ieri no dell'outlook in caso di recessione di solito la il mercato reagisce inizialmente con debolezza però poi quando arriva gli stimoli chiaramente il mercato è stimolato rate cut rate cut ragazzi molto bene molto bene powell notes fed discuss the timing of rate cuts at meetings today ok topic della discussion si inizia a parlare di tagli bene era ora era ora siamo ancora focus sulla domanda se i tassi sono abbastanza alti basta dai powell lascia lì costi tassi alti sono abbastanza alti non vogliono togliere da ok quindi non danno la certezza che non ci saranno più rialzi dei tassi però iniziano già a parlare di tagli e prima abbiamo visto come dicevano che siamo al top a vicini al top quindi lo sapete loro sono sempre cauti no e siamo preparati ok questi li abbiamo già letti secondo me sì sì li abbiamo già letti beh dai parole comunque non male è qua cioè sono state parole discretamente forti oggi non dormo troppo fomo powell stasera fa tavolo tavolo powell stasera ragazzi ma un giorno la facciamo tipo una festa da qualche parte facciamo tavolo powell e sia si fanno follie si fanno follie grafico allora allora abbiamo detto abbiamo detto abbiamo detto qualcuno ha chiesto bnb andiamo a vedere bnb sono le nove ragazzi ora di andare a cena anche bnb non ci siamo non ci siamo proprio mi spiace ma è ancora molto forte la l'offerta su bnb è in downtrend e quindi no non è non è interessante è un grafico ancora fortemente in downtrend qua c'è una zona chiave chiave 0,004351 vediamo la reazione però per il momento vedete bene massimi e minimi fortemente decrescenti da un trend ripido quindi bnb no al momento no lato grafico è sto guardando il grafico poi cosa avevamo detto imx qualcuno aveva chiesto immutable ex ma i cojoni immutable ex questo mi sa che ce lo aggiungiamo nella watch list perché abbiamo una vicinanza notevole con i top locali e quindi insomma potrebbe andare addirittura in price discovery pazzesco price discovery teniamolo d'occhio insomma salva che in caso di rottura di 5600 potrebbe potrebbe fare numeri interessanti vediamo e per il momento in una gigantesca lateralità però sta per romperla rialzo allora ragazzi un'ora e dieci direi che ci possiamo salutare cosa cosa ne dite cosa ne dite cosa ne dite potresti spiegare quando guardare la struttura contro usd e quando contro bitcoin ti dico cosa faccio io è perché ovviamente è una mia c'è un mio modo di fare l'analisi però io di solito ragiono contro usd solo per quelle su quelle coin che hanno un mercato enorme direttamente fiat no quindi bitcoin e ether fondamentalmente e in realtà ether io lo guardo anche lui contro bitcoin perché poi quello che a me interessa è vedere se un asset performa meglio o peggio di bitcoin cioè se la sua struttura di price action è forte contro bitcoin in rialzo allora lato speculativo ha senso andare a cercare eventualmente una posizione ma altrimenti se è debole contro bitcoin anche se è forte contro il dollaro io preferisco andarla a cercare su bitcoin perché è un asset più liquido meno volatile più più standardizzato con più storico ed è tendenzialmente più facile passatemi il termine gestire un'analisi e una posizione quindi le altcoin per me sono una soluzione secondaria se solo se sono più forti di bitcoin altrimenti preferisco cercare la struttura su bitcoin la posizione su bitcoin tutto lì tutto lì ragazzi direi ah c'è lo space di ale adesso su cosmos grande grande gli vado a fargli un saluto anch'io molto molto volentieri che ale crypto ita ha lanciato questo nuovo space dove parla di cosmos e ci tiene aggiornati quindi se siete interessati all'ecosistema cosmos andiamo andiamo a sentirlo anzi gli andiamo a dare un ciao in diretta e poi ci salutiamo dunque dov'è adesso non è più crypto ita mi pare alessandro mazza andiamo a fare un ciao ad ale che tra l'altro a breve facciamo il video tutti insieme facciamola il grande ritrovo eccolo è già partito è già partito vediamo sì commentiamogli tutti ragazzi stasera a digiuno stasera a digiuno perché con lui c'è il founder digiuno e allora facciamo i simpaticoni stasera a digiuno ragazzi basta siamo siamo arrivati direi e non ce la facciamo più e quindi 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 cipini stavo per dimenticare cipini perché adesso allora adesso che ripartono anche le iscrizioni al nuovo workshop ragazzi i cipini danno un bello scontozzo eh poi i cipini li si può usare anche su bit cashback lo sapete vero che si può avere il cashback doppio per un mese con 3000 cipini non so se avete idea di cosa vuol dire cashback doppio per un mese in bitcoin stiamo parlando di tranquillamente 50 60 euro in bitcoin in più e quindi non so vedete voi eh poi magari vi fanno schifo però dov'è pioggia di cipini tallo qui eccolo dunque 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 che mi si bagga sempre twitch porco giuda porco giuda eccolo eccolo qua il l'incozzo dei cipini e stasera a digiuno eh ragazzi mi raccomando e basta direi che possiamo salutarci detto questo amici grazie per per esserci stati per essere stati sul pezzo ma il bip show non lo segui ragazzi è uno dei miei podcast preferiti il bitcoin italia podcast è è veramente top top contenuti ragazzi podcast italiani su bitcoin bitcoin italia podcast e il priorato di bitcoin di turtle cute livelli top consigliatissimi seguiteli ascoltateli perché è veramente ottimi contenuti ebbene oggi era la giornata delle scillate fantastico e quindi vi faccio un carissimo saluto e noi ci si vede alla prossima che è venerdì e domani mi raccomando corso gratuito trading derivati non perdetevelo perché poi arrivate tardi e i 50 dollar ozzi ve li perdete dove si possono ascoltare i podcast su spotify spotify super easy ragazzi buona serata e ci vediamo prossimamente e bella per gerry che ci ha fatto arrivare a ci ha fatto arrivare a un 43k dai dai gerry fai serata con noi gerry fantastico di nuovo ciao a tutti ragazzi a presto ragazzi a presto